Il centro sportivo di Ponte Sasso è un polmone verde ed una boccata di ossigeno puro per la comunità e coinvolge tutte le fasce d'età degli abitanti. Una delle strutture portanti attorno alla quale ruotano molti frequentatori è il campo di bocce dove vengono disputate sia gare ufficiali che tornei organizzati. Da tempo questa struttura necessitava di un adeguamento alle ultime normative in fatto di sicurezza ed in ambito energetico. Nelle settimane prossime tutto questo verrà realizzato da una ditta pugliese vincitrice della gara d'appalto indetta dal comune di Fano per una spesa di circa 70.000 euro, spesa coperta dall'avanzo d'amministrazione del 2017 che non intacca così il patto di stabilità ma permette, come illustrato questa mattina dal geometra del comune Mario Silvestrini, di effettuare radicali cambiamenti sulla copertura e sull'isualimento termico della struttura. Sicuramente porterà un vantaggio anche all'associazione che risparmerà molti soldi anche nel riscaldamento perché una struttura come quella coperta che lavora prevalentemente in inverno aveva dei problemi di gestione. Quindi andremo a sostituire la copertura, renderla impermeabile ovviamente ma anche renderla coibentata dal punto di vista termico in maniera tale che l'utilizzo del bocciodrono sia proprio più confortevole e appunto come già detto più economico per gli affociati. Il tutto si è reso possibile grazie alla collaborazione stretta tra l'associazione sportiva ed il comune di Fano che ha fatto proprio dopo le dovute modifiche un progetto esecutivo fatto redigere dalla società, dall'ingegnere Camboni Mario. Da un po' che ci stiamo dietro abbiamo presentato proprio a tal proposito il progetto, è un progetto esecutivo che la giunta se l'è fatto suo, se l'è diciamo così corretto un attimo e poi ha dato seguito alla cosa e quindi siamo veramente soddisfatti perché andiamo oltretutto a sanare, a bonificare un qualcosa che ormai cominciava un po' a scricchiolare che è la struttura del bocciodrono. Tempi di realizzazione quindi molto serrati, ora dopo le obbligatorie verifiche di legge sulla ditta verrà consegnato il cantiere e da lì entro l'autunno prossimo Ponte Sasso avrà la sua nuova struttura.